Bene, vicino. La cartella. Buongiorno, bambino. E' Rosa. Vieni qua. Vedi che devi camminare sempre a testa alto. Mi raccomando, non ci dare soddisfazione a quelli sciomuniti. Eh? Eh, dammi un bacio. Brava. Vai, dai. E ricordate che le gata non hanno paura di niente. Buongiorno, signorina. Signorina Pepitone. Buongiorno. Che cos'ha? Non si sente bene?